Abbiamo dato mandato di effettuare il pagamento nel mese febbraio per 60 persone che hanno presentato i documenti che consentono di accedere a questo servizio e chi è che invece non lo ha presentato l'abbiamo sospeso, ci sembra corretto per le persone che hanno seguito le regole. Di conseguenza io vorrei ricordare che questo è un reddito, un contributo che viene dato per persone che hanno delle difficoltà, una specie di ammortizzatore sociale a tutti gli effetti, però per poterci accedere hanno bisogno di determinate caratteristiche. Quindi il Comune non tollererà che nessuno venga a manifestare davanti alla propria porta perché prima di potersi lamentare debbano fare il loro dovere, ovvero sia recarsi agli uffici, presentare la documentazione e nella documentazione si è attestato che vengono rispettati i parametri per poter accedere a questo contributo. Di conseguenza nessuna strumentalizzazione, cerchiamo di poter sbrigarci per poter portare questa orientazione, nessuno è stato escluso ma sospesi. È chiaro che se poi in primis chi è che deve avere questo contributo non si attiva, non può venire sicuramente a lamentarsi davanti alle porte del Comune. Tra le altre cose noi sappiamo che a Gela ci sono tutta una serie di problematiche che non sono soltanto quelle dell'RMI, ma in modo molto orizzontale si tratta di molte fasce di lavoratori che sono molto molto di più. Infatti noi per questo giorno 14 saremo a manifestare nella città di Ricata per il problema agricoltura. Stiamo facendo un accentramento di tutti i comuni della parte di Caltanissetta e dell'Agrigentino. Abbiamo voluto fare questa manifestazione proprio allicata perché ad ottobre è stata colpita da una trompa d'aria. È il giorno 14 perché è il giorno in cui a Bruxelles vanno a firmare accordi che riguardano l'agricoltura. Siamo i prossimi, amici. L'Agriego!